Nonna, sei da... da Mengaci, sei. Salutalo. Ciao Maria, saluta, ciao Maria, ciao, 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 posso farmi intervistola già un po' di un conto? Sì. Grazie. Lo devo mandare a... a Maurizio Postanzi. Dai, che lui registra le persone strane. C'è una panina in televisione. Guarda, allora... Guarda... Bluetooth qua non è. Eh, nonna, tu non ci hai provato io. Ma sì! Tu schiacci finchè non si accende. E' un po' di 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 un